Questa volta vi parlerò dei nonni, che sono una figura meravigliosa nelle nostre famiglie. Lo sapete che ci sono 4 milioni di minorenni che sono affidati per gran parte della giornata ai nonni, che sono il vero welfare del nostro paese. È grazie ai nonni che le coppie riescono ad andare a lavorare e a ammortizzare le spese, magari di babysitter, di vari aiuti. Purtroppo però i nonni spesso subiscono delle gravi ingiustizie. Ad alcuni è impedito addirittura, in caso di separazione dei coniugi, di vedere i nipoti. Quindi la legge ha attribuito ai nonni il diritto di poter procedere in tribunale per poter avere almeno un rapporto, poterli incontrare ogni tanto. Però c'è anche il dovere dei nonni, come dice la Cassazione e come già sancisce il Codice Civile. Ed è l'obbligo di mantenere i nipoti nel caso in cui i genitori non vi provvedano. È una norma assolutamente condivisibile, che però in qualche modo è in distonia con i diritti affievoliti dai nonni di vedere i nipoti quando vogliono vederli, quando a loro è impedito di farlo. E questa è una grave ingiustizia, come dicevo prima, perché i nonni fanno parte della colonna portante delle famiglie, salvo eccezioni, per carità. Ho conosciuto anche i nonni negativi, ma nel 99% dei casi i nonni sono figure meravigliose. Ma la Cassazione ha sancito appunto il loro obbligo di mantenere i nipoti in proporzione alle loro possibilità. Tenete presente che i nonni sono pensionati, per cui devono fare dei sacrifici enormi per mantenere i nipoti. Quindi in primis devono essere i genitori a provvedere al mantenimento dei figli, altrimenti lo faranno appunto i nonni, paterni o materni che siano. Questa è una sentenza quindi che conferma un trend, ma che dimostra che alla fine questo paese si poggia sui capelli bianchi dei nostri anziani. Per tutte le altre notizie vi invito a iscrivervi al canale di YouTube Studio Legale Cassani. Alla prossima.